Delega fiscale, la parte principale riguarda il gioco d'azzardo. La Liga Nord che cosa ne pensa e come ha votato? Abbiamo votato a favore, abbiamo aperto questo credito nei confronti del Governo. È ovvio che saremmo vigili e attenti affinché l'attività legislativa del Governo sia coerente con le direttive della Delega fiscale e soprattutto sia coerente con quanto previsto dalla legge della Delega sul federalismo fiscale e da quanto sta facendo la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale. Con questi tre presupposti la nostra collaborazione sarà sempre positiva e a favore dei cittadini e dei contribuenti. Ma il decreto aiuta la lotta contro il gioco d'azzardo? Il decreto mette alcuni paletti e soprattutto, cosa che noi riteniamo importante, dà dei poteri in più ai sindaci che possono intervenire nel processo autorizzativo e quindi possono dire la loro per esempio nella dislocazione nel proprio territorio di questi centri di gioco d'azzardo quindi ponendo anche attenzione a quelli che sono i principi urbanistici di ogni singolo comune e le esigenze di ogni singolo comune.